Bene, passiamo ora al podio. Premiamo quindi i terzi classificati perché con ogni podio che si rispetti si comincia dalla medaglia di bronzo. Cominciamo dalla traduzione e chiamo sul palco l'autrice di questa splendida traduzione che è Veronica Orciari della Quinta Vita Il testo tradotto è una poesia di Emily Dickinson, incapace di guarire coloro che sono amati. Ascoltiamo intanto un giudizio critico di Marco Lobascio. La traduttrice, che ha scelto tre componimenti in cui Emily Dickinson affronta il tema dell'immortalità, immortalità attraverso l'amore e attraverso la parola, è riuscita a restituire con sobrietà, prudenza e delicatezza sia la materia semantica che il tessuto sonoro dei testi. Non si è sovrapposta all'autrice con soluzioni eccentriche, ma ne ha rispettato le scelte di registro e di stile, dando prova di sensibilità e di quella capacità di mettersi umilmente in ascolto della parola altrui che è una delle qualità necessarie per accostarsi alla traduzione della poesia. Complimenti. Ne ascoltiamo ora la lettura di Viola Corneli, sempre della Quinta Biginazza. Incapaci di morire coloro che sono amati, poiché l'amore è immortalità, o meglio, cosa divina. Incapaci di morire coloro che amano, poiché l'amore rigenera la vita in divinità. Grazie. Grazie.